Un saluto ben ritrovati dal Tg della Mobilità. Al Circo Massimo questa sera nuovo appuntamento con la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Dalle 20 e sino alla mezzanotte circa saranno chiuse al traffico via della Ramassima di Ercole e via De Cerchi, nel tratto compreso tra Porta Capena e Piazza Bocca della Verità. Per quel che riguarda il trasporto pubblico, le linee 81, 118, 160, 628 e 715 per tutta la durata dell'evento saranno deviate su Via della Greca, Piazza Bocca della Verità e Via Petroselli. Le rappresentazioni proseguiranno fino al 6 agosto. Il calendario degli eventi e quindi delle chiusure è consultabile su romamobilità.it Grazie a tutti.